L'Isola dei famosi 2023, Alvin sarà l'inviato inizio e chi sono i concorrenti? L'Isola dei famosi 2023 è ad un passo dal suo inizio. Dalla produzione fanno sapere che il grosso è già fatto. Sebbene molte domande ancora rimangono senza una risposta, i fan sono già su di giri. Una su tutte, per fare un esempio, Alvin sarà ancora l'inviato in Honduras? Sono vere le voci di un presunto litigio con Ilari Vlasi? Vediamo insieme i dettagli. Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Nikita, Tavassi, Antonella, Sara e Donna Maria? Sondaggi percentuali. Dunque, la diciassettesima edizione, freschissima, dell'Isola dei famosi tornerà ancora una volta su Canale 5 tra un mese abbondante. Quando terminerà l'ultima edizione del Grande Fratello VIP? A quel punto, Alfonso Signorini. Dopo aver decretato il vincitore del suo format, cederà il passo Ilari Vlasi alla sua magistrale conduzione dell'Isola. Insomma, sulle reti Mediaset l'intrattenimento non si ferma mai, soprattutto quando si parla di reality. Ma veniamo alla nostra domanda, cosa sappiamo del caso Alvin? Sarà ancora lui l'inviato sull'isola? Oppure la fuga di notizie che parlava di una sostituzione a seguito di un presunto litigio con Ilari sono vere? A quanto pare, la risposta è affermativa, ci sarà ancora una volta di Alvin, arrivato alla sua quinta edizione dell'Isola dei famosi. Certo, i papabili nuovi inviati erano diversi, come ad esempio Paolo Ciavarro. Tuttavia, come rivela anche TV Blog, pare che anche per quest'anno il nome di Alvin sia stato nuovamente confermato. Senza ombra di dubbio. Questo vuol dire, inoltre, che le voci riguardo ad un presunto litigio tra l'inviato Alvin e Ilari Vlasi erano completamente false. Del resto, non è la prima volta che abbiamo a che fare con una notizia simile, anche l'anno scorso erano arrivate presunte rivelazioni simili. E fu proprio la stessa Ilari Vlasi a doverle smentire, in pubblico, con una intervista. Ma passiamo ora, invece, ad un altro aspetto importante dell'edizione, il cast dell'Isola dei famosi. Anche in questo caso la nostra fonte è TV Blog, che ha voluto di recente confermare alcuni nomi in anteprima. Parliamo di Cristina Scuccia, ovvero l'ex-suor Cristina, la coppia di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Ma anche Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Nois e molti altri ancora. Sempre la testata. Infine, fa anche i nomi di Gianmarco Onestini, Elena Prestese e Fiore Argento. Insomma, castricco, rigoglioso, ne vedremo delle belle. Ma passii cu care am crescut, pe scurt, de la un pui salbatic avezi tu. Am ajuns un animal rabdator, pragmatic, dar vezi tu? Trai sa depasesc plutonul cu fiecare text pe mafia, parasiitii, dragonul maxi, gespe. Chimie, rimaru, spike, puia, si, shoapo, grasul, nimeni altu, delvede sau carbo. Trai sa va mananci vers cu vers card intens, trai sa crezi, crezi ce vrei sa crezi. Eu va respect pe tot, dar focusez pe nivelul urmator, vezi zici ca ma bat cu bossul. La cat de urat sunt, cum sa va iau cu frumosul? Metafore, iverbole, le obtin prin alchimie. Cand adun cuvinte din domn, ma pun, le pierd la 1000 de grade Celsius. Sa ramana spus si sa te stie, nu-i nimeni cel mai bun, dar evolueaza cel ce vrea sa fie.